Nella terza esercitazione vi farò vedere alcune conduzioni di palla. Allora, prima conduzione, partiamo con la suola del piede, destro e sinistro, uno e due. Poi, seconda variante, possiamo utilizzare l'interno dei due piedi facendo sempre un andato e un ritorno, in questo modo. Mi raccomando, lo sguardo sempre alto, frontale. Terza variante, conduzione palla, con cambio di direzione, destro e sinistro. Quarta ed ultima variante, colpiamo la palla con l'interno e l'esterno del piede, lo facciamo sempre col destro prima e poi dopo col sinistro. Grazie. 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 Grazie.